Ultimo saluto nel pomeriggio per Michele Calabria, l'uomo di 61 anni di Montesano sulla Marcellana, purtroppo deceduto in seguito a un incidente con il trattore. Il fatto si è registrato nella frazione montana di Tardiano. Il 61enne, sabato pomeriggio, si trovava in un terreno quando per causa in corso di accertamento è rimasto con il corpo schiacciato sotto il trattore che trenava un'autobotte. L'uomo è morto sul colpo. La salma è stata portata nella sala mortuaria del cimitero di Montesano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sala Conselina guidati dal caposquadra Pasquale Roberto, che hanno lavorato non poco per estrarre il corpo dalle ramiere del trattore. Per i rilevi del caso e per l'esatta dinamica dell'incidente, probabilmente dovuta a un malore, sono state attivate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conselina. Michele Calabria lascia la moglie e quattro figli. In occasione dell'esegui del nostro cittadino Michele, presso la chiesa di San Gerardo a Tardiano, scrive il sindaco Giuseppe Rinaldi, la comunità si stringe forte nel ricordo alla famiglia tutta e con deliberato di giunta renderà memoria al suo impegno lavorativo quotidiano costante, lo stesso che stava svolgendo anche nel momento dell'incidente. Riposa in pace.